Si è intervenuto anche fuori da ogni schema, sopra parti coltivate, parti che comunque ad oggi non ci risulta che l'ente competente abbia la disponibilità. Fermare un paradosso, ovvero quello che sta andando in scena in questi giorni nel cuore della piana dell'Entella, dove per portare avanti sedicenti operazioni propedeutiche alla ricerca delle valenze archeologiche di un bene, in questo caso il Seggiune, se ne danneggiano irreparabilmente alcune parti, oltre a deturpare, anche dal punto di vista ambientale, una buona parte dell'area adiacente, rientrante men che meno in un SIC, un sito di interesse comunitario vincolato a livello europeo. Lo chiede ancora una volta la sezione del Tiguglio d'Italia Nostra. La stessa associazione che un anno fa si è impegnata per dare avvio al processo di riconoscimento del vincolo paesaggistico sull'area, procedimento tuttora in corso in queste settimane da parte della Commissione regionale, adesso si è rivolta nuovamente al Ministro, al Ministero dell'Ambiente, alla Sombretendenza, alla Regione e ai Carabinieri Forestali, per chiedere che si fermino le attività in un cantiere che, tra le altre cose, non ha assolutamente la disponibilità delle aree sulle quali sta operando. Nella lettera chiediamo la sospensione di ogni lavorazione fino alla definizione di quello che è i vincoli sull'area. Finché il controsenso, non ci pare, nel senso del paradosso, la stessa Regione sta valutando ormai via definitiva il vincolo paesaggistico sull'area e non ferma le operazioni che vanno a demolire ciò che è oggetto di quello che sarà il vincolo. Avete fatto anche un sopralluogo sul posto, che cosa avete avuto modo di vedere? Ci sono stati anche dei danni sia ambientali ma anche monumentali. A parte i danni alle coltivazioni, in essere, proprio danni su partizioni di muretti, sono stati poi lo stesso chiamato seggiun tagliato, una modifica di quello che è lo stato di fatto, cosa che di per sé non se ne vede la necessità. Se deve essere fatta la bonifica, se devono essere fatti ancora quelli che sono gli accertamenti di tipo archeologico, non si capisce per quale motivo si deve intervenire per far passare dei mezzi cingolati. Ma a che titolo devono passare i mezzi cingolati? Su un'area che è soggetta a verifica di vincolo.